Chateau d'Amboulay 1996, Bland de Blanc 930 euro, 930 euro Niente, non c'è più nessuna reazione Telefona Trabbentante Da quanto è che cucini? Tutto il povericchio E il genio? Tu e Tau E adesso non so Abbiamo perdonato tutto Ma perdonato cosa? Il Rolex Il SUV Gli slip Simona Non so rispondere Fuma? Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza Il bimbo resta piccolo Era infantino Avete già deciso come chiamarlo? Sì Bernardo Ma bellissimo come Bertolucci Ma è il maschile di Bernardo Luca, Matteo, Paolo come te? No Bruto? No Spingi quel coso Dai, più la mano Bull Renich Non mi viene, ma rendola Dai, dicelo Non sta scherzando? No Ma certo Questa scherzando Ma è uno scherzo affatto Ci piace molto È originale ma classico Perché? Non vi piace? No, non vi piace Simona, tu sei l'incarnazione Della disfatta del nostro paese Stiamo a prendere lezioni Da uno che ha chiamato i figli Pin e Scintilla Parla O parlo io? Parla con l'amore Hai dieci tweet Allora twittami sto cazzo Io mio figlio lo chiamo come mi pare Capito? No, non puoi Ciao mamma Come va? Benissimo Bella serata Tu pensi che io sia omosessuale? L'ho mai visto con una donna A parte betta Con betta tutto Anche le cerette Adesso lo dici Diggielo Non sono pronti Pronti a cosa?